E bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Avete letto benissimo il titolo ragazzi perché oggi vi farò vedere come io e la mia trio ci siamo qualificati alle finali del torneo in trio no build che sarebbe la lighting cup Ebbene si ragazzi passavano solamente 33 team e noi abbiamo fatto parte di questi 33 team appunto siamo passati alle finali Infatti se volete vedere in un prossimo video appunto qui sul canale un video dove vi faccio vedere come abbiamo giocato poi le finali che peraltro sono solamente 3 game una lobby Tutta piena di gente fortissima tra Tifu, Aqua, Zemi, Ninja insomma un sacco di pro player Fatemelo sapere qui sotto nei commenti lasciate tanti like così almeno la prossima volta nei prossimi giorni vi farò uscire appunto il secondo video che sarebbe la finale di questo torneo Quindi oggi andiamo a vedere 5 partite diciamo un montaggio di come abbiamo giocato appunto queste 5 partite che ci hanno permesso di qualificarci Mi raccomando ragazzi vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni sul mio canale Viola dalle ore 17 quindi vi aspetto anche solo per un saluto E in più vi ricordo di seguirmi su Instagram che è l'unico social che utilizzo tutti i giorni per tenermi sempre in contatto con voi Link dei miei social qui sotto in descrizione Ma ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al gameplay vi auguro una buona visione di questa qualifica Secondo me sarà bella tosta E' un'altra proposta palla No 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 andiamo lì andiamo lì però dico secondo me sarà tostina Magari il primo che lo facciamo un pochettino più push Vai giù vai giù vai giù 27 27 27 27 hai fatto? C'è uno da me c'è uno da me Evo chica? Io però sono morto in quel Morto 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 Dove c***o stanno? Sul tetto sì ma comunque è inutile provare a pusciarli da qua Mi hanno snipato Arriva arriva coperti arriva coperti arriva coperti arriva coperti Dio Ok buona buona Abbiamo fatto la combettina sai perché io ho fatto dink Palle non avere muri è indecente comunque raga Ma guarda non ne neanche i muri È proprio la zona dici No sono avuto tutti i barret c'è C'è sono proprio i barret che non devono proprio esiste C'è proprio un'arma di p***a per i bambini proprio Dove andiamo? Sempre lì? Eh ora ritorniamo Johnny Io spero che si fagli perché tanto con questi punti sicuramente becchiamo gente proprio dog shit Ah passi 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 qua da me Da me? Distrutto il bianchissimo bianchissimo 29 quello là doppio C'è l'altro però 120 120 26 29 44 Craccato anche l'altro Merda C'è via la macchina Vai prendetelo Capisco tutto capisco niente Dai queste erano free kill dove c***o stanno? Va bene questi hanno preso il volo di solo andata perva Sono smaterializzati in automatico Macchina dietro macchina dietro Eh i colpi sono il problema C'è chiarato uno dietro Quasi noccato Un colpo un colpo La concentrazione è quella che guida il furgone rosso Un colpo Noccato 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 Mi arrivato alla kille o ci sono uno 26 Craccato Morto Ariftato 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 Il primo il primo il primo Il primo il primo 29 il primo E chi sei doppio sulla montagna 20 Eccolo eccolo sta nuotando E' noccato 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 180 180 Dove c***o la kille Dove buttare il bellone e prendi lo spray Prendi lo spray Da dietro No peccato Un millimetrino proprio Un centimetro specifico Ma non già in gola E ma si è spostato dietro Quello ha shiftata E mi sa che vado alla casa di Klik Si Ruole Ruole passi sotto di me passi sotto di me distrutto bianchissimo muore sicuro mamma mia questo qui scopo raga ma che no sulla montagna di roma noi eccoli 27 doppio 41 distrutti madre che l'ho sfondati e proprio l'ho fatti beccare l'ho da prendere l'impulso onesta hanno rifiutato un è rimasto qua sotto bianco con la quale modo forse l'ultimo verso l'ultimo 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 si è l'ultimo vente lo caldo caldo non li vedo però odito l'albero leviamo l'albero ti lascio 50 40 vincato guardate di nuovo crackato l'accato 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 sotto di me sotto di me sotto di me morto 42 d'incato 60 blu 29 crackato una distrutta l'ho pusciato l'ho pusciato l'ho pusciato l'ho pusciato abbiamo anche un altro game ricorda quindi possiamo anche provare 65 si stanno vociando parecchio ci sta però non dobbiamo se moriamo se moriamo se moriamo mid è finita si si faranno si faranno la benzinaio però beh a sto punto c'è dobbiamo stare proprio super safe secondo me questo sarebbe da piccare però sai diamogli una piccata veloce basta che non basta che non crepiamo se no è finita si si ma con calma perché non dobbiamo morire se no c'è gg se moriamo ora è proprio mamma mia sei proprio un demone tibetano vado di impulso sul tetto eh ha rifiutato col corpo ha rifiutato col corpo è diverso è morta è morta è morta è morta è morta è morta riesce non fermarlo bravissima bravissima è sopra di te oddio what the fuck sopra una vista da qua prendilo prendilo bravissima è sopra è sopra è sopra di te due kill me ne sono fatta ci sei trombata acqua marty eh? era acqua ci sei trombata acqua dog shit si no no basta che non andiamo lì se c'è troppa gente a johnny si perché secondo me se morì ma ce l'abbia nel culo dici e beh c'è un lama 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 per noi questo è god eh ok io io sono messa così io il mio dato è god ah no per il mio per il mio entro solo solo 24 24 doppio qua dietro triplo 24 ancora 24 ancora spacca la roccia spacca la roccia col pare è free kill quella free punto 24 24 ancora crackato bianco bianco one shot ok free punto a post e via uno ci va billy ci va billy dietro 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 le spuglio ve li butto fuori con l'impulso fatto 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 billy 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 tutti su billy billy 24 tiplo non lo vedo 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 si scaccato la roccia fatto crackato l'altro praticamente eh mi sono chiusi a lasciare hanno impulsato sopra si stanno fightando loro io lascio le fare fateli fare fateli fare fateli fare io ne ho 90 dobbiamo andare a sinistra ragazzi volete un impulso a testa prendiamo like ci siamo lì no dobbiamo salire da sopra raga è veramente god lì secondo me col muro è veramente god 3 2 1 vado vieni ci vai e no vieni 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 nel giro si spuglio crackato quasi impulso ok ha rifiutato siamo è nostra è l'altezza nostra raga dietro dietro la cosa arriva arriva qua la carattina in sinistra sinistra morto 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 tutti che pulsano bianco questo qua bianco questo qua morto un altro morto un altro morto un altro oh quelli nai quelli nai quelli nai noccato no crackato noccati guarda me è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo è morto tranquilli è morto è vinto è vinto tranquilli morto let's go comunque abbiamo giocato benissimo abbiamo giocato veramente bene e la call la call della montagna con l'impulso ci stava perché era veramente alta eccoci ragazzi qui alla fine del video vi faccio anche vedere come ci siamo posizionati siamo arrivati appunto sedicesimi con ben 121 punti e peraltro vi ricordo che passavano solamente 33 squadre quindi come vedete noi siamo sedicesimi abbiamo fatto comunque un ottimo punteggio e sono molto soddisfatta di come sia andato ovviamente dopo queste 5 partite che abbiamo fatto che ci hanno permesso di qualificarci nella prima sessione abbiamo giocato anche la seconda sessione che sono appunto le finali ma non le vedrete in questo video ma al massimo in un prossimo video solamente se lo volete quindi ragazzi se volete il video della finale di questo torneo mi raccomando spoliciate più in un posto scrivetemelo qui sotto nei commenti in tantissimi mi raccomando spaccate i commenti e noi ragazzi ci becchiamo a mente in un prossimo video quindi signori dalla vostra grado amminista è tutto bella a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti